Cump era il termine con il quale gli affiliati e le cosche di Andrangheta di Brancaleone in Calabria nella fascia ionica regina si chiamavano tra loro nei dialoghi sui social. Cump è l'abbreviazione di compare sodale. L'Andrangheta in sostanza evolve, ma al contempo si affinano le modalità d'indagine mirate a quei social di cui le cosche fanno ampio uso. Non è un caso che Cump Banco Nuovo è il nome che gli inquirenti hanno dato all'inchiesta della DDA di Reggio Calabria che ha svelato l'articolazione dell'Andrangheta nei centri di Brancaleone, Africo e Bruzzano, Zeffirio. Vengono chiariti anche i nuovi assetti organizzativi, i ruoli rivestiti dagli affiliati, li modellati all'indomani della pace raggiunta dalle cosche dopo la sanguinosa faida di Africo a Motticella che aveva visto affermarsi gruppi Palamara-Scrivà e Mollica-Morabito. I nuovi assetti dell'Andrangheta sul territorio di Brancaleone hanno dato origine a un banco nuovo, e cioè a un nuovo locale. Le indagini con 50 arresti e sequestri in tutta Italia hanno portato alla luce inoltre l'esistenza di una pericolosa cellula di Andrangheta di nuova generazione, definita Cump, composta da una serie di soggetti che si ritengono dominatori incontrastati del territorio di Brancaleone e non esitano ad effettuare azioni eclatanti pur di affermare il loro predominio, disponendo di armi da guerra.